L'ufficio scolastico territoriale ha richiesto la collaborazione dei carabinieri della provincia di Sondro per poter distribuire testi scolastici lasciati da rialunni presso i propri istituti. Abbiamo risposto alla richiesta dei dirigenti scolastici, siamo impegnati nelle numerose quotidiane attività ma anche nella distribuzione dei testi su tutta la provincia di Sondro. Buongiorno carabinieri, devo consegnare dei libri sul figlio. Carabinieri, buongiorno, sono qui per consegnare i libri per sua figlia. Ciao, grazie. Buon donato. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti